Le difficoltà finanziarie rimangono ma dopo la documentazione per l'iscrizione che è stata presentata, il Catania ha iniziato a pianificare gli obiettivi in vista della prossima stagione. E così il club rossazzurro ha programmato i primi incontri in vista del nuovo campionato a partire da quello con il tecnico Baldini che fino ad ora ha temporeggiato in attesa di segnali confortanti dal club. In attesa del giudizio della Covisoc, ieri sera c'è stato il primo importante incontro fra la proprietà del Catania ed il direttore dell'area sportiva Maurizio Pellegrino. Per oggi in agenda è in programma anche un nuovo incontro con l'amministratore unico Nicole Mura in cui si entrerà nei dettagli per allestire la squadra. Di certo Pellegrino ha chiesto determinate garanzie per il rafforzamento dell'organico che fra partenze e scadenze di contratto potrebbe presto presentarsi come un vero e proprio cantiere aperto. Il dirigente in particolare aveva già parlato di almeno sei rinforzi di prima fascia che consentirebbero alla squadra di poter competere per l'obiettivo della promozione in Serie B. E intanto la Lega Pro ha ufficializzato le date per il nuovo campionato. Il via alla prossima Serie C è fissato per il 29 agosto 2021 e la conclusione sarà il 24 aprile 2022. Deciso anche il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C che si disputerà il 13 o il 14 agosto. Il secondo turno invece in programma per il 21 agosto.